Carissimi amici, ma possibile mai che mi tocca fare l'avvocato difensore di una persona che non mi ha scelto mica per fare l'avvocato difensore? Cioè io dovrei difendere Sebastiano Vicentin, dovrei difenderlo da degli attacchi incredibili e non lo potrei difendere perché non ne ho né il titolo né il piacere, però come si fa? Io vi devo fare questo video perché quello che ho raccolto, che sto sentendo, secondo me va al di là di ogni immaginazione e direi di ogni ragionevolezza. Prima di tutto mi sono segnato delle cose perché altrimenti perdiamo il filo del buonsenso, della decenza. Innanzitutto alcuni scrivono, va bene, noi ci affidiamo agli investigatori perché gli investigatori sapranno, sanno tutto. Io ho molte perplessità su queste cose qui perché gli investigatori non è detto che siano dei grandi esperti, non è detto che abbiano notizie superiori a quelle che abbiamo noi. E le mie perplessità nascono dal fatto che ogni tanto esce fuori qualcosa che mi fa rimanere basito, attonito, meravigliato. Quando ad esempio i botanici dopo tanto tempo che hanno fatto la relazione sul terriccio scrivono sotto le suole ci sono tracce di terra compatibili anche con il boschetto. Significa non scrivere nulla, amici, significa non scrivere nulla, sotto le suole tracce di terra compatibili anche con il boschetto. Allora diteci, ma la cosa più grave riguardo appunto queste investigazioni, sapete qual è? E' che il contenuto dei cellulari non è stato ancora analizzato, vedete, dal 5 gennaio, ma non dico dal 5 gennaio che è stato ritrovato il corpo, ma già i cellulari che stavano a casa dal 14 dicembre dello scorso anno, udite, udite, il contenuto dei cellulari non è stato ancora analizzato, eppure è della massima importanza, verrà data nomina a un consulente informatico il 27 di aprile. Quindi il 27 di aprile verrà dato l'incarico e poi vedremo perché è importante, perché alla fine vedremo alcune dichiarazioni di Claudio Serpin circa i messaggi che si scambiava con Liliana e quindi qua ci sarà il lavoro del consulente informatico che dovrà dirci delle cose secondo una contestualizzazione di tutto quello che esce dai cellulari, non quello che si è fatto vedere. Questo ne parleremo dopo, ma quello che a me preme dire adesso è che è possibile mai che il 27 aprile si dà l'incarico al consulente informatico dopo tanto tempo, ma c'è di più, bisognerà poi aspettare il 6 di maggio per dare un altro incarico per le analisi sulla bottiglietta, sul contenuto della bottiglietta dell'acqua eccetera eccetera, trovata vicino al cadavere. Impossibile mai che passa dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e ancora siamo così? Queste sono delle grosse perplessità, però veniamo al fatto che io debba fare l'avvocato difensore di Sebastiano per quello che vedo un attacco, ma un attacco a sprombattuto. Ad esempio alcuni giornali come il piccolo di Trieste danno addosso basandosi però sul nulla, perché si parla di una lettera di addio, dice ma se è una lettera di addio, questa lettera di addio che forse è stata scritta, la danno come se fosse vera. E a chi dice che la lettera conveniva a Sebastiano per dimostrare il suicidio? No? Qualcuno dice ma se ci fosse stata sarebbe convenuto a Sebastiano si ribatte no perché nel contenuto della lettera ci poteva essere delle accuse al marito, delle accuse feroci che lui non poteva rivelare. Cioè addirittura si ipotizza non solo l'esistenza di una lettera di addio, diciamo così in caso di suicidio, ma se ne ipotizza anche il contenuto come se fosse vero. Ma qui stiamo dando i numeri, ma veramente stiamo dando i numeri nella maniera più assoluta perché si ipotizza qualcosa che non c'è, fino adesso noi possiamo dire che non c'è e figuratevi se si può ipotizzare il contenuto. Poi addirittura si dice sempre sul piccolo, dice e poi la telefonata delle 8 e 22 come si concilia? E no, quella era per sentire per l'ultima volta la voce del suo amato Serpino. Ma questo l'abbiamo accertato? L'abbiamo documentato? O non lo abbiamo documentato? Io penso che non l'abbiamo documentato. Poi contro Sebastiano, giusto per rinfocolare le polemiche, c'è la cugina che si scaglia e gli dà del fandullone, uno che non ha mai lavorato, uno che dormiva nella macchina quando era giovane. Ora, poi che è uno che praticamente ha interesse a prendersi la pensione di reversibilità, ma io dico, ma perché qualcuno ha saputo che Liliana si lamentasse del marito, del lavoro, dei soldi, e dopo 32 anni di matrimonio. Io credo che non ci sia stato nessuno che possa testimoniare di questa presunta crisi o di questa lamentazione che potesse fare Liliana. Quindi, ha senso unico. Poi ho visto un video dove addirittura si arriva ad analizzare parola per parola tutte le risposte date nelle varie interviste da Sebastiano per verificare se ad ogni parola corrisponde un certo tipo di interpretazione o meno, cose veramente kafkiane, veramente kafkiane. Ma veniamo al clou, veniamo proprio al clou, alla cosa più assurda di tutto che qual è? E' che in un altro video si rivela una notiziona, una notiziona bomba, cioè che il 30 di dicembre, a circa le 20.30, Sebastiano chiama Gabriele, quindi la vicina di casa, la moglie di Salvo, per chiedere una corda, una corda o un cavo, perché doveva trainare un amico che si era impantanato. Ora, nella fantasia, si dice questo perché la corda che cosa potrebbe richiamare alla mente? Il cordino? Lo spago? No, stiamo parlando di tutt'altro. Stiamo parlando di una corda per trainare una macchina. Quindi immaginate, stiamo parlando di tutt'altro. Allora si dice che c'entra? Eh, ma allora chissà perché ha detto forse era una scusa per potersi allontanare. Ma scusa di cosa? Ma talmente è difficile per gli investigatori andare a vedere se era vero o no. Perché se lui ha detto così, allora si chiama a Sebastiano e dice chi è che ti aveva chiesto il soccorso che doveva aiutare? E si verifica. Non è che... Ma poi che cosa doveva fare, secondo loro? Di giorno 30, visto che di giorno 30, forse doveva uscire per andare a prendere il cadavere della moglie. E poi, giusto per non farsi notare, vedete la follia? Giusto per non farsi notare, lo andava, diciamo, a far capire proprio a loro, ai vicini di casa, così amici, come si erano rivelati. Quindi diceva, dammi la corda così devo uscire, giusto per aprire gli occhi a qualcuno. Ma io credo che stiamo esagerando. Stiamo esagerando delle cose che si devono fare i video. Facciamo questi video. Però non si può dire cerca la corda, chissà perché, e forse la scusa per uscire che non era vero che doveva andare a prendere o aiutare l'amico che stava in panna con la macchina. Ma ci vuole tanto a verificare. Se non è vero, se non è vero, si verifichi in un attimo. Poi, vabbè, poi ci sta il Claudio Serpin che pure sta dando il meglio di sé, sta alzando la voce perché sente una specie di solidarietà intorno a lui. E quindi, leggo Claudio Asfalta Sebastiano, Sebastiano, insomma, praticamente diventa Sebastiano come se fosse l'amante, diciamo, che non ha nessuna importanza. E lui assorge a figura centrale, a figura quasi di marito, quello là che ha perso la sua amata. Ma poi escono fuori delle cose solo adesso, cioè in questa famosa telefonata delle 8 e 22, adesso esce fuori che lui dice sì, mi ha detto che avrebbe fatto una mezz'ora di ritardo perché andava alla wind e poi mi ha detto pure poi ne parliamo, poi ne parliamo e di che cosa ne dovevamo parlare. Io poi a questa parola non ci ho fatto casa al momento, ma questo lo si dice adesso. Lo si dice adesso per rinfocolare i dubbi, le polemiche, ma i dubbi di cosa? Poi, e poi far vedere alcuni messaggi, alcuni messaggi che scambiavano con i codici, con gli Eliano. Ora, per carità, io ho visto qualcosa, tre o quattro messaggi così, a parte che secondo me la cosettezza sta sempre nella contestualizzazione, cioè se io faccio vedere, non so, delle lettere, dei messaggi, anche una lettera, io non posso estrapolare due, tre sigli, quattro righe, una parola, perché altrimenti tu da un quadro generale e allora puoi capire meglio, non che fai vedere solo alcune cose. Ecco perché è importante che finalmente il 27 aprile venga conferita l'incarica al consulente informatico, perché così questo consulente informatico ci potrà fare chiarezza su tutto il contenuto. Se questa storia veramente concorrente esisteva, in che termini? Perché è vero che si scambiano questi messaggi, però io quel poco che ho visto, ho visto bravo, bravissimo, super bravo, e però non ho visto cuoricini o cose particolari da parte di Liliana. Li ho visti da quell'altra parte quando lui scriveva cuoricini, eccetera, ma dall'altra parte, io almeno mi sembri non aver notato cuoricini, eccetera, sempre bravo, super bravo, ok? Sempre estrapolati, quindi ora se ci sono stati nel corso di mesi 100, 200 messaggi, 300 messaggi e tu ne prendi magari, non so, 5, 6, 10, 15, estrapolati, non significa niente. Cioè, qual è questa? è la dimostrazione che essi avevano un rapporto di un certo tipo, che avevano un rapporto purtroppo affettuoso, ma di che maniera? Affettuoso, ma come? E addirittura lui dice, vedete qua, ci sta questa cicletta da camera, dove, che stavano a casa pure con con Sebastiano, e che lui adesso c'è a casa, perché gliel'aveva, gliel'aveva data Liliana, ma, voglio dire, le bici, anche le ciclette, Sebastiano, ne avevano tante a casa, insomma, loro vivevano nel mondo della bici, ora che Liliana gli abbia dato una, una, una cicletta, anche vecchia, usata da per anni, e gliel'abbia data a lui, come, anche gesto amichevole, dice, vabbè, vuoi fare la cicletta, io, ce n'ho, ce n'ho alcune, te ne do una, ci sta pure, io non dico che, non erano amici, non si conoscevano, lei non era legata, magari ad un'affettuosità amichevole, che non lo voleva bene, nel senso, pure fraterno, fraterno della parola, ma, che lui volesse dire, noi eravamo amanti, nel senso, che lei voleva venire a vivere con me, voleva lasciare Sebastiano, cioè, quindi, buttare tutti i sospetti, no, perché lui si voleva liberare della moglie, e chissà cosa è successo, e chissà cosa è capitato, chissà cosa ha fatto lui, purtroppo, io mi trovo a difendere Sebastiano, ma non perché lo voglio difendere, a me non è nemmeno troppo simpatico, parliamoci chiaro, però, io sono per la giustizia, io dico, quest'uomo, non può, essere coinvolto, in un'eventuale, azione di omicidio, o di danno, nei confronti della moglie, non può, non può, perché, per tanti motivi, non avrebbe avuto nel tempo, nel modo, né di spostare cadavere, né di conservare cadavere, né avrebbe avuto, interesse a non far trovare il cadavere, per tanti giorni, l'interesse ipotetico, era quello che, si sentiva male, lui, chiamava, i soccorsi, magari, la moglie della morte, aveva avuto un malore, oppure, si è suicidata, si chiudeva subito, la cosa, e lui, come marito, aveva subito, anche, i soldi, che, della, della moglie, aveva, non so, anche, una reversibilità, sulla pensione, cioè, il suo interesse, era quello di, se era una morte naturale, era quella là, invece, no, si ipotizza, l'ipotizza l'omicidio, l'occultamento, eccetera, ma come mai, avrebbe potuto, lui, lui, da solo, come mai, avrebbe potuto, non si può, presumere, che abbia, dei complici, non si può, invece, altri, hanno avuto più tempo, e più complicità, fra di loro, secondo me, altri sono, in generale, ma lui, adesso tutti quanti, addosso, ma sarà pure condannabile, non sarà, non sarà stato, il marito ideale, non sarà stato, il compagno ideale, sì, è vero, dice pure, Claudio, ma anche lui, era l'amante, al suo tempo, 32 anni fa, quando ha conosciuto Liliana, lui era sposato, e quindi, a sua volta, era l'amante di Liliana, sì, è vero, anche lui, ma nessuno, fa una difesa morale, io dico, però, che, in questo momento, non è dimostrato, prima di tutto, non è dimostrato, ancora, niente, nel senso che, per me, c'è molta mitomania, in quello che dice Claudio Serpine, perché, al di là di alcuni messaggi, in cui non si capisce nulla, di che, bisogna contestualizzare, vedremo, ma poi, tutto questo, che cosa serve, a dimostrare che cosa, che, Sebastiano, ha delle colpe, su, un'eventuale, uccisione della moglie, ma chi, ma come, non c'è nulla, tutte critiche, così, apodittiche, apodittiche, astratte, e io, questo non lo posso, non lo posso digerire, non lo posso giustificare, io, voglio essere obiettivo, e devo essere obiettivo, perché, ripeto, io non ho nessun tipo, nemmeno di simpatia, nei confronti di Sebastiano, ma sto vedendo, che, la famiglia, la cugina, il fratello, Claudio, Salvo, la moglie di Salvo, altri amici, tutti quanti, adesso, danno addosso, a questo povero Sebastiano, che, si trova in croce, senza essere, nemmeno indagato, questo, non è moralmente, corretto, non è moralmente, giustificabile, non è eticamente, giustificato da nulla, e da nessuno, quindi, ma mi dispiace, questo, dispiace, poi, quando emergeranno, se emergeranno, elementi fattuali, che non so quali, possano essere, perché quest'uomo, abbia potuto fare, chissà cosa, a meno che, non sia, eh, dottor Jekyll, e mister Hyde, non abbia dei poteri, sopravvani, non lo so, io non credo proprio, quindi, questa è, diciamo, la mia riflessione, e il mio dispiacere, perché, eh, che questo Claudio, sembra che è lui, che ha perso la moglie, e, e, e questo, e questo Sebastiano, viene, viene relegato in un angolo, senza, come un pugile suonato, senza che, abbia scelto di combattere, contro nessuno, una cosa, penso un po' esagerata, secondo me, esagerata, quindi, grazie dell'ascolto, ci sentiamo, appena ci sono novità, e speriamo che si ristabilisca, un po' di equilibrio, in questa questione, grazie, sempre, e un abbraccio, a tutti quanti voi.